ci butteremo adesso in diretta da un paracadote siiii ma esce l'aria aiuto esce così e vabbè amo eeeh fai veloce no ma non sono pronta non posso stare senza questo musino ma amore non posso crescere questa maglia ma non posso prendere la maglia ciao amore ciao amore ciao amore ciao a tutti lupetti e lupette benvenuti nel nostro nuovo video come avrete sicuramente letto dal titolo avrete capito che ho fatto una sorpresa a Giuse per che cosa amore? per il nostro anniversario per il nostro? che numero? 8 anni ottavo anniversario esatto voi dovete sapere che io e Giuse ci siamo innamorati o meglio io l'ho notato quando eravamo alle scuole superiori perché lui era in classi accanto alla mia e appena l'ho visto in corridoio insieme ai suoi amici si lo so io ho una storia triste lo so io l'ho notato subito e mi sono follemente innamorata mentre lui non mi ha affilato di pezza ma adesso siamo qua aspetta 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 prima di tutto lasciate like al video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti esatto così non vi perdete i nostri video e ho deciso di fare questa sorpresa a Giuse dicendogli semplicemente una mattina prepara il borsone e la valigia perché ti devo portare in un posto così ho messo una destinazione sul navigatore senza dirgli appunto dove saremo andati e siamo partiti all'avventura e dove ti ho portata mo? eh in un posto speciale senza Yugo per quello Yugo se ne è andato perché purtroppo però c'è anche Yugo nel video esatto non erano messi cani purtroppo ma ora passiamo al video sì iniziamo buongiorno a tutti Yukino ma cosa ci fai sul tavolo amore? cosa stai facendo? chi è l'arte? ti sta controllando mentre stai facendo colazione cioè io non ho parole guarda lo vuole anche lui e oggi è la mattinata della sorpresa speciale sì ma che cosa è? io non ho dormito cioè io mi sto dormendo ora eh vabbè amo e prima o poi ti sveglierai hai una vaga idea di cosa possa essere? no mi vuoi che non mi hai dato indizi così scoprirai insieme a loro dove ti porterò che paura ma glielo diciamo amore a Yukino che lui non può venire con noi perché in questa posta non accettano animali quindi tu non potrai venire con noi ti dovremmo lasciare dai nonni per un giorno e mezzo Yuko ci mancherai tantissimo guarda come se ne sbatte proprio sta sbadigliando non mi piace gli interessa è mangiare sì io non ho parole ciao Yuko eh è arrivato il momento di fare la valigia sì che cos'è amore? no amore è un po' trash questa maglia non ci sono andati Yuko che cosa dici? secondo me non è molto adatta questa? ecco questa è molto più carina no davvero amore allora devi portare un costume un maglione e non so cos'altro come faccio a mettere un maglione in costume? cosa c'entra? amore prima andiamo sulla neve e poi ci buttiamo nell'acqua calda nelle terme sto scherzando siamo in viaggio e stiamo portando Yukino dai miei genitori comunque non sono mai stata 24 ore senza Yukino non penso di potercela fare sinceramente ciao amore mio siamo arrivati patato ciao amore no amore non sono pronta non posso stare senza questo musino ciao amore ciao 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 mi raccomando fai il bravo eh fai il bravo amore ho appena inserito la via nel navigatore e c'è scritto che mancano solo 110 km io sono ore e quaranta amore sei pronta a guidare quasi due ore? si che bello si ma regalo non potevi tipo prendere un'autista anche no? eh amore vuoi troppo nella vita ok raga siamo vicini alla meta come potete osservare siamo praticamente in mezzo al niente tra i monti questo perché ovviamente ci butteremo reazione diretta da un paracadone si sei contento amore di questo regalo? si facciamo un giro si ma davvero no? no amore ovviamente no siamo arrivati guarda giuse quanto è curioso benvenuto amore scusa dormiremo in questa bellissima palla in mezzo ai boschi guarda che carina c'è tutte le lucine per terra no vabbè è gonfiabile toccala ma è morbida? si aspetta aspetta vado prima io ferma di qua chiedi gli occhi cammina vieni 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 aspetta eh non aprire vai apri vieni vieni bellissima ragazzi noi dormiremo in questo letto matrimoniale con la vista ovviamente delle stelle amore sei un po' claustrofobico? perché devi dormire qua dentro c'è anche il telescopio ah c'è anche il telescopio ma adesso entriamo dentro e ve la facciamo vedere per bene prego Giuse ti sgonfia speriamo di no ma esce l'aria no aiuto esce l'aria si e vabbè amo fai veloce ok chiudi bene speriamo sia chiuso seconda porta wow partiamo da qua che ci dovrebbe essere il bagno questo sono io ciao a tutti qua c'è un bellissimo lavandino e cosa c'è qua dietro? il bagno no il mini bagno ragazzi ma è bellissimo cioè amore puoi fare pipì stanotte guardando le stelle cioè è fantastica questa cosa e di qua c'è invece la vasca quella un po' più grande se vuoi fare proprio il bagno sotto le stelle se vuoi strafare ed infine c'è la cameretta fantastica con tutte le lucine sopra e questo è il nostro caro telescopio vediamo se stasera riusciremo a vedere qualche stella o qualcosa pronta amore a fare la prova letto? 3 2 1 che bello è arrivato l'uomo delle pizze si si guarda l'ho ordinato io grazie può entrare ma quante pizze sono? noi siamo soltanto in due perché ci sono 4 pizze qua io ho fame diamo una sbirciatina a queste pizze wow le nostre 4 pizze ragazzi cioè buone buona atta yeah ti è piaciuto allora amore il posto in cui ti ho portato? buonissimo l'ho visto? che bello questa è la nostra stanzetta di notte guardate lì è diventato tutto buio guardate quanto è carino con tutte le lucine accese è bellissimo allora amore mi hai trovato qualche stellina? sì è bello voglio vedere no no ma allora non la vedono eccola si vede in lontananza è bellissima ce la faremo a raccontarle tutte? sì ciao lucine buonanotte buongiorno a tutti ci siamo appena svegliati e questo è il panorama che stiamo osservando è bellissimo buongiorno amore hai dormito bene? sì racconta che cosa abbiamo appena visto? le scogliettili le scogliettili che volavano si azzuffavano si sugli alberi è stato veramente un attimo sono passati in maniera velocissima sì è stato bellissimo ti è piaciuta la sorpresina? sì e adesso dove andiamo? a fare colazione sì andiamo lasciando la nostra bolla e stiamo andando a fare colazione sì vediamo cosa ci sarà di buono sì io ho fame anch'io non mi sono passate quattro pizze com'è stata amore allora la colazione? io mi sono affianato però ci siamo portati via un succo e adesso dove siamo? in piscina hai visto amore? perché farei un bagno? no no dai amore no dai ciao cameretta ciao bolla ciao ciao torniamo a casa a prendere Yuko però sì amore che stai facendo? mi mancherò mi sa che ti è piaciuta amore la sorpresa la stai abbracciando addirittura aspetta adesso l'abbraccio anch'io oh oddio ma si rimpalza? oh sì ragazzi abbiamo messo un ciuchino guardate che carino ciao ciuchino c'era un altro ciao bellissimo se Yuko fosse un ciucho sarebbe esattamente così guardate che carino che amore che è anch'io la voglio accarezzare tieni ciuchino tieni bravo amore guarda che bocchetta vieni qui su oh che bei denti che hai che bravo ciao amore ciao amore ciao amore ciao amore ciao ciao amore ciao 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 non sapevo reagivano a dire ciao amore amore ciao amore ciao amore ciao 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 vieni Yuko vieni vieni amore guarda guarda che ti aspetta ciao amore ciao ciao amore ciao amore ciao amore ciao bellissimo dov'è 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 amore guarda c'è il fratellino guarda c'è il fratellino Yuko dagli un bacino dà un bacino la sorellina bravo quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate like commentate il nostro video e soprattutto iscrivetevi per non perdervi i nostri prossimi video ma dove è andato Yuko Yuko scendiamo ciao lupetti ciao lupetti anche io voglio un bacino grazie amore ciao ciao